Spring Edition 2021 Uno di Star Conference che è il momento in cui le imprese, i gruppi del segmento star si incontrano, si interfacciano con gli investitori, ci si interfacciano sempre ma questo è proprio un momento davvero importante. Sono molto contento di avere con noi Roberto Lacorte che è fondatore, amministratore delegato e vicepresidente di Farmanutra. Farmanutra è un'azienda farmaceutica che è leader nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro e poi sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi nutrizionali innovativi curando l'intero processo produttivo dalle materie prime proprietarie al prodotto finito. Allora dottor Lacorte ho visto il bilancio 2020, un bilancio che nonostante gli effetti che ci sono stati ovviamente per la pandemia da Covid-19, voi operate in tante aree del mondo quindi ovviamente gli impatti sono stati, è andato molto bene. Lei è soddisfatta? Se lo aspettava era questa un po' i risultati nelle previsioni o siete andati meglio del previsto? Beh, innanzitutto grazie dell'intervista. Diciamo che siamo orgogliosi, siamo orgogliosi di presentare al mercato, agli investitori e ai nostri collaboratori, tutti quelli che hanno contribuito a realizzare un altro anno di successo, un bilancio del genere dove in un anno così complicato, così in certi momenti incerto, siamo riusciti a crescere ancora. Ce lo siamo guadagnato sul mercato perché non è stato, il Covid non ci ha regalato, non ci ha dato delle opportunità come in certi casi può aver dato e in altri casi invece ha dato delle grandi difficoltà. Ci ha messo in difficoltà come tutte le aziende perché pensate che nel momento più difficile dell'emergenza sanitaria tutte le terapie si sono fermate, tutto era concentrato intorno all'emergenza Covid, non potevamo più entrare negli ospedali per poter fare la nostra attività di informazione medica, ma la cosa più importante è che i medici erano completamente disorientati e c'era tutta una focalizzazione su solamente un tema, quello del Covid. Ci sono addirittura delle terapie così gravi come le terapie per le neoplasie, quindi si sono addirittura interrotte quelle, quindi questo la dice tutta su quanto abbiamo dovuto lavorare e ci siamo conquistati un altro anno di crescita. Come? Difendendo gli asset più importanti e continuando a investire sugli asset di sviluppo. Abbiamo protetto la nostra rete commerciale, i nostri informatori, dando loro un sistema innovativo per entrare in contatto con i medici, e con gli ospedali e con le farmacie, cioè un sistema innovativo di informazione medica con l'e-detailing, ma siamo andati oltre l'e-detailing e abbiamo creato un sistema che si basa sulla realtà aumentata, cioè abbiamo portato ogni singolo nostro informatore e non un informatore di rappresentanza, che rappresentasse l'informazione medica in generale, ma ogni singolo informatore davanti allo schermo del medico, del farmacista, con gesti animati e interattivi che potessero ristabilire una connessione il più reale, il più vicino alla realtà possibile, ma anche se vogliamo dire tutta fino a un fondo, diversa rispetto agli altri, più di appeal e più fluida e più semplice per l'incontro con il medico. Questo sistema in quel momento di massima chiusura dei rapporti reali ha rappresentato un sistema emergenziale per risolvere questo nel periodo più critico, ma nel futuro rappresenterà per noi un'opportunità nuova, tant'è vero che stiamo aprendo un nuovo ufficio di e-detailing che affianca tutta l'attività importante dell'informazione medica di persona, ma questo ci consentirà di andare a prendere altre sacche di prescrittori, quindi altre opportunità di business. Senta, rimanendo, voi però avete anche lanciato, anzi, senza però, avete lanciato sul mercato un nuovo prodotto a novembre, credo, il Settila, il Settila Tape, commentologo e prodotto dalla linea Settila. E poi, diciamo, prima della trasmissione comunque avete già a rampa di lancio due novità in termini di prodotti sulla pipeline dei prodotti, due novità per il 2021. E allora in questo quadro lei come vede, questa è la prima domanda, la seconda domanda è in generale cosa si aspetta dal 2021, l'anno in cui comunque si comincia a vedere l'uscita da questa maledetta pandemia? Il 2021 innanzitutto è diventata una nuova normalità nella quale noi abbiamo imparato a muoverci. Quindi sarà un anno dove sappiamo, c'è più definizione dell'orizzonte che c'è davanti a noi e più conoscenza del presente. Quindi ci stiamo muovendo con più consapevolezza dello stato attuale con una prospettiva molto interessante di uscita, di ritorno alla tradizionale normalità, non alla nuova normalità, perché ora non siamo più in emergenza, siamo una nuova normalità. In pipeline infatti abbiamo l'uscita di due nuovi prodotti che andranno a rinforzare le opportunità di business, quindi il fatturato dell'azienda nell'ambito del 2021 e anche in anni successivi. Quindi quello che ci aspettiamo è un ritorno alla crescita a doppia cifra, tipica della nostra azienda, anche perché davanti a noi arriveranno a termine nell'ambito del 2021 dei processi regolatori, un processo regolatorio molto importante che definirà una nuova classe di antinfiammatorio che sarà di proprietà totale nostra, protetto da patente molto importanti da un processo regolatorio che all'interno del processo stesso rappresenterà una barrera all'ingresso della concorrenza. E questo aprirà degli scenari molto molto interessanti, delle opportunità interessanti nell'ambito della risoluzione degli stati infiammatori in generale, non solamente nell'ambito del muscolo scheletrico come fa il Cettler a uso esterno. Quello è uso interno, è un sistemico come può essere un occhi o altri infiammatori. Molto interessante, mi sembra una carta di presentazione del 2021, diciamo altissimo livello insomma. Senta, e sempre guardando un po', voi comunque avete continuato nel 2020 l'espansione internazionale, il gruppo ha realizzato firme di accordi, di collaborazione con altre nove partner. Ecco, le volevo chiedere, in quale aree del mondo maggiormente vi siete mossi nella stringere questi accordi di collaborazione e anche qui cosa prevede per il 2021? Ci saranno ulteriori accordi in quale parte del mondo? Vorrei solo ricordare che avete aumentato del 13% oppure in un anno disgraziato come nel 2020 ricavi dei venditi su mercati esteri che sono molto importanti. Eh sì, questo è un altro motivo d'orgoglio. Nonostante le restrizioni che non ci hanno consentito di fare tutte quelle attività di viaggi, incontri, fiere, mercati, congressi, dove si vanno a incontrare le nuove opportunità e a sviluppare le nuove opportunità, abbiamo fatto tesoro di tutti gli investimenti che abbiamo fatto negli anni precedenti di incontri di sviluppo del mercato estero per arrivare alla realizzazione di altri otto partner e altri contratti di distribuzione per il 2020. E attraverso, sempre con sistemi a distanza e attraverso lo sviluppo degli esistenti contratti di distribuzione, ovvero degli esistenti distributori, noi stiamo lavorando sul far partire altri prodotti sui distributori esistenti. Quindi abbiamo lanciato, siamo partiti nella prima fase di internazionalizzazione prevalentemente con il Sideral, con la linea Sideral, ora stiamo lavorando sui distributori attuali, per esempio, nel far partire le attività su questi territori anche con i Cetilar o con gli Ultramagra o con altri prodotti. Quindi stiamo capitalizzando un gran lavoro fatto nel passato e stiamo lavorando su territori che noi riteniamo strategici come può essere Nord America, la Spagna, la Francia, la Germania, gli UK. Guardi, finita questa intervista con lei ho una call per un'opportunità per un potenziale partner su acquisizioni per l'estero. Stiamo lavorando quindi focalizzati su questi territori strategici dove vorremmo e stiamo focalizzati a muoverci attraverso azioni proprietarie, cioè non solamente con contratti di distribuzione, quindi relazioni commerciali, ma con branch di proprietà o co-partnership a livello di capitale. Quindi detenere non solamente avere un'opportunità di espansione del fatturato, ma detenere anche il valore del fatturato sviluppato su territori che noi riteniamo essere strategici. E qui viene fuori il tema delle acquisizioni. Obiettivo importante dell'azienda è che stiamo, infatti stiamo facendo un'attività molto robusta di radaring, di scouting, di nuove opportunità di acquisizioni, sia per quanto riguarda il mercato Italia, sia per accelerare l'internazionalizzazione. Siamo diventati sufficientemente grandi e strutturati per poter allargare il business della nostra azienda non solamente con una crescita organica, ma anche con una crescita per bine esterne, attraverso possibili combinazioni industriali che si possono realizzare. Dottor Lacorte, le ringrazio perché è stato chiarissimo e ci ha dato anche informazioni importanti su questo percorso di crescita che ormai continua da parte del gruppo Farmanutra. Ricordo che abbiamo parlato con il dottor Roberto Lacorte che è fondatore, CEO e vicepresidente del gruppo Farmanutra che ci ha presentato, che come vedete è un gruppo non solo di grande robustezza ma anche con una visione che certamente determinerà ulteriori fasi di crescita, ne sono convinto dottor Lacorte. Grazie mille. Grazie a lei e dell'opportunità di questo confronto. Grazie mille.